Sono da Piercarlo Lava, sono in Piazza Libertà davanti al Comune, questa mattina c'è stata una manifestazione da parte dei lavoratori di Aspale costruiti insieme per una situazione che è estremamente preoccupante. Siamo con Alessio Ferrari, il segretario provinciale Alessandri Asti della CIS, da cui chiediamo come stanno le cose. La situazione è caotica, quest'oggi è andata in onda la protesta dei lavoratori di Aspale ma la situazione genericamente parlando anche sulle altre partecipate è preoccupante. Questo sindacato CGL Cese Will ha offerto nel luglio 2011 a questa amministrazione la possibilità con il consenso delle proprie federazioni, delle proprie RSU e delle maestranze di poter operare risparmi consistenti sulle partecipate. A distanza di oltre due anni noi registriamo una situazione che vede queste partecipate una dopo l'altra a vario titolo e con varie motivazioni in liquidazione. Questo pone problemi oggettivi tecnici, alcuni dei quali sono stati richiamati dall'assessore, sugli ammortizzatori sociali. Ad esempio, non abbiamo un quadro chiaro e preciso di quali e quanti servizi, non abbiamo un quadro chiaro e preciso di quanta e quale occupazione. Registriamo su Aspale, che era una multiservizi, una serie di composizioni e ricomposizioni che hanno portato il TRA verso una fondazione, la quale fondazione l'anno stesso della Costituzione ha presentato un preconsuntivo di bilancio in forte difficoltà e ci sono i 15 lavoratori del teatro che sono sostanzialmente a meno di una manciata di settimane dalla fine degli ammortizzatori sociali. La stessa situazione riguarda i lavoratori di Aspale. C'è la fallibilità di Amiu, ci sono problemi in ATM, non sono stati fatti i tavoli che ci erano stati promessi. Oltre a due mesi fa CGL e Cislewil hanno avuto un incontro con il sindaco dove hanno chiesto rispetto al bilancio stabilmente riequilibrato questi risparmi dove e come sono stati fatti. Noi ci accontentavamo di una sintesi, la risposta è stata non la sintesi avrete il dettaglio. Sono passati due mesi e non abbiamo né la sintesi né il dettaglio. Credo che la città si stia interrogando, spero in maniera seria e credo che ognuno di noi camminando per le vie cittadine abbia una sensazione precisa di che cosa sta accadendo. Nel nostro slogan all'inizio quando siamo scesi a Roma abbiamo parlato con i ministri di competenti il nostro slogan è stato dall'inizio che Alessandria non deve morire. Registriamo con molta tristezza che questa città sta morendo, con lei i servizi, con lei i lavoratori correlati. Questa è una situazione inaccettabile. Ma lei ritiene che a questo punto ci sia rischio di altri tagli sui posti di lavoro? È una preoccupazione fortissima, non c'è chiarezza. I tavoli che chiediamo non ci sono, dobbiamo arrivare alle manifestazioni, dobbiamo arrivare a invadere il Palazzo del Comune per avere udienza. A me non sembra una situazione chiara questa e non mi sembra vero quindi quello che viene detto anche in maniera mediatica, volutamente io credo distorta, di questa grande disponibilità al dialogo. Questa disponibilità al dialogo noi non l'abbiamo registrata, né a livello confederale né a livello di federazioni di categoria. Questa io credo sia la situazione. Ma questa mattina avete avuto, dopo aver occupato il Consiglio Comunale, mettere in corso una commissione di bilancio, avete avuto un incontro con il sindaco? No, assolutamente no. Quindi avete parlato solo con l'assessore al bilancio? Assolutamente sì. Vi ha dato qualche indicazione, qualche minima rassicurazione? Abbiamo avuto la cronistoria di una situazione, ma non abbiamo avuto naturalmente le motivazioni per cui siamo arrivati a questa situazione. Ricordo solo che Aspal è stata posta in liquidazione perché 900.000 euro in meno di quota di servizio sono venuti meno, quindi il capitale è andato sotto dei due terzi e quindi per legge Aspal è andata in liquidazione non avendo, naturalmente, ma questo si sapeva già, i denari per recapitalizzare. Quindi bisogna partire un attimo dalle origini per capire che queste sono scelte deliberate, scelte volute, scelte legittime, politiche, per cui però bisogna assumersi la responsabilità delle conseguenze di queste scelte. Quindi praticamente ci sta dicendo che volendo l'acquidazione di Aspal potrebbe essere evitata? Noi abbiamo offerto più di una volta federazioni di categoria comprese, RSU comprese, lavoratori compresi, soluzioni praticabili, assolutamente legali, perché oggi questo termine è riecheggiato, assolutamente praticabili, sono state deliberatamente, io credo deliberatamente, se no mi si spieghi la motivazione, disattese di volta in volta. Tra una manciata di settimane ci sono in Aspal 25 persone che non si sa. È troppo chiedere che fine fanno? È troppo chiedere che fine fanno i lavoratori del TRA? È troppo chiedere come mai un'amministrazione si è posta a punto di andare contro una sentenza per la fallibilità o meno di Amiu? È troppo chiedere questo? Non credo. Grazie.